Amici di Youtube e Instagram, buongiorno a tutti quanti, buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con l'edizione giornaliera di oggi, giornaliera edizione giorno dopo. Buon lunedì a tutti, un fottuto lunedì blu, come dice G-U-E in Guisus, un fottuto lunedì blu, perché è un lunedì veramente... che non ha nulla di buono. Un lunedì brutto, brutto perché hai perso un derby, non brutto perché hai perso una partita, perché hai perso il derby, perché quest'anno io l'ho detto, la stagione dell'Inter quest'anno non sarà come quella dell'anno scorso e questo ve lo dovete mettere proprio chiaro, nero su bianco. Cioè questa è una cosa che dovete già avere come fattore preventivo. L'Inter quest'anno non farà la stessa stagione in campionato che ha fatto l'anno scorso, perché il signor presidente Beppe Marotta alla presentazione dei sorteggi di Champions, alla presentazione della nuova stagione dopo la firma sul contratto di Simone Inzaghi, dice che quest'anno bisogna alzare l'asticella in Europa. Quindi un allenatore che deve sottostare chiaramente ai dettami del suo dirigente preferisce puntare magari quel qualcosa in più in Europa e sacrificare un po' di partita in campionato. Detto questo, però, sacrificare un po' di partite non vuol dire sacrificare il derby, che è la vita di ogni tifoso nero-azzurro. Il derby è tutto. Posso capire chi non vive a Milano non lo sente particolarmente, io sì, e a me perdere con questi scappati di casa veramente mi fa girare i coglioni. Mi fa girare i coglioni perché, innanzitutto, bisogna dare i meriti, io non sono d'accordo con quello che sto sentendo in linea di Massima, perché sembra che gli hai regalato tu la partita. Sicuramente l'approccio non c'è stato. Sicuramente l'atteggiamento è stato un atteggiamento sbagliato, un Inter che si è cullata sicuramente. Ieri possiamo dirlo, sì, ci siamo un po' addormentati sugli allori in maniera, secondo me, troppo supponente. Però non si può dire che ieri l'hai regalato. Il Milan, con Fonseca, tanto bistrattato, tanto messo alla gogna, con l'acqua alla gola sull'orlo del baratro, ha messo un 4-4-2 e ha praticamente infinocchiato tutti. Perché, mettendo un modulo del genere, hai ingabbiato tutto il centrocampo di Inzaghi. Infatti, ieri la partita l'hai persa proprio a centrocampo. Ieri la partita l'hai persa a centrocampo perché il centrocampo ieri non ha filtrato. Cioè, anche nel primo tempo, quando comunque i tre in mezzo al campo, le tre mezzale, erano tutti titolari, Ciala, Barellino e Mkhitaryan, con un Mkhitaryan che ieri è stato, secondo me, il peggiore in campo, non aveva la testa per giocare a sta partita. Dal punto di vista proprio mentale non c'era Mkhitaryan. Il giallo che ha preso, la palla regalata a Pulisic. Però è mancato l'atteggiamento anche perché quando Pulisic va in serpentina, tra Pavard, Acerbi e Bastoni, nessuno va a steccarlo, nessuno va in scivolata. Pavard, che il suo marchio di fabbrica è quello di andare in scivolata in extremis, ieri praticamente si è guardato la partita il signor Benjamin Pavard. Va bene dopo Monza il gol di Danimota, non ci poteva fare niente perché lì ha fatto il gol della domenica, però bisogna capire che il tempo degli oneri forse è finito, cioè bisogna giocare a calcio. Non è che adesso ci possiamo cullare perché l'anno scorso li hai disintegrati, l'anno scorso un'annata che entrerà nella storia da raccontare quando saremo vecchi, vincerlo in faccia in casa loro, mi significa poco vedere le A o Fofanage che fanno il giochino della bandierina con la maglietta, perché c'è chi il giochino lo può fare quando ti vince uno scudetto in faccia, ma quando vinci un derby che non conta un cazzo, diciamo che è un po' diverso, ma loro sono gli esperti a vincere i derby che non contano un cazzo, perché hanno vinto quello due anni fa alla quarta giornata a settembre, un po' come questo, quando l'hanno vinto con le parate di Mignan, cioè voglio dire, e poi anche lì abbiamo visto come è finita la stagione, Euroderby a casa, il campionato a casa, Supercoppa a casa, e li abbiamo mazzolati. Il problema non è soltanto l'atteggiamento, perché il Milan ha meritato di vincere, Fonseca è brutto da dire ma ti ha incartato ieri sera, ti ha incartato, è venuto o meno il reparto dove l'Inter è più forte, ovvero quello del centrocampo. Il centrocampo, che è il nostro punto di forza, il nostro marchio di fabbrica nel creare azioni offensive, ieri è stato veramente incartato, è stato ingabbiato, Barellino, l'unico forse che ha giocato all'altezza di un derby, nonostante le difficoltà tattiche, c'è la Noglu sicuramente il giallo preso ha causato una regia più scolastica, a inizio secondo tempo prima del cambio, ma il giallo l'hai preso perché? Perché hai sbagliato l'atteggiamento, hai sbagliato l'approachio, ti sei messo malissimo in campo, perché vedere tutti questi sbilanciamenti anche in difesa, sull'1-1 al 65esimo, è inguardabile una roba del genere, cioè non ti puoi sbilanciare subito così, a inizio secondo tempo, posso capire che comunque cercavi di vincerla, anche se poi le occasioni non dicono questo, perché le occasioni poi dicono che il Milan poteva vincere 4-1, 5-1, però non si possono vedere certi sbilanciamenti. I cambi sono stati secondo me tutti inadeguati, tutti non idonei, tutti fuori dalla partita che si stava giocando, Inzaghi poteva fare molto meglio a partita in corso, certo che poi, vabbè, non siamo nessuno per dare consigli, non siamo nessuno, non facciamo i dirigenti, gli esperti di sto cazzo, perché arrivare adesso già a ritirare in causa il mercato, ah, mercato da due o tre spendi soldi, iniziamo a concentrarci sulla partita, e su quello che ci ha detto ieri sera un derby giocato di merda, non andare a recriminare ancora sul mercato a fare i finti esperti di sto cazzo. Non siamo nessuno per dare lezioni al mister, però i cambi sono stati tutti sbagliati, e secondo me, anche dal punto di vista tattico, è vero che Fonseca, comunque, che ha reso la vita difficile per il mister, non era assolutamente facile preparare una partita così, dopo che, potevi adagiarti vedendo una squadra che ha preso schiaffi da tutti, e poi ti capita un 4-4-2, neanche la vigilia del derby, e ti ritrovi a cambiare totalmente la lettura della partita. Quindi, sulla lettura della gara, bisogna, diciamo, prenderla un po' con le pinze, ma sui cambi, invece, male. Il fattore determinante è stato chiudere un primo tempo, dove si stava giocando anche bene, dopo il gol di Di Marco, l'Inter ha attaccato, ha avuto le occasioni, Lautaro ha provato una conclusione da fuori area, la palla a gol di Turam, che però se l'è dovuto andare a prendere lui, non è stata un'azione calibrata, non è stata un'azione avvolgente, è stata una giocata individuale del Tikus, che ha trovato una grande parata di Mignan, e comunque i presupposti erano buoni a fine primo tempo, perché era un Inter che stava nel bene o nel male continuando a fare l'Inter, dopo un quarto d'ora di blackout. I blackout in un derby non te li puoi permettere, la storia te lo insegna, come nel 2021-2022, c'è da dire comunque che lo stacco è stato chiudere un grande primo tempo e iniziare un secondo tempo in maniera vergognosa, perché nel secondo tempo tu non sei sceso in campo. Pronti via, 46esimo, Leao ha una palla a gol, perché meno male che si chiama Leao. Se si fosse chiamato, non lo so, forse se ci fosse stato morata su quella palla, non so come sarebbe andata. Sommer, migliore in campo, ieri non l'ho detto tanto, ma vabbè, era sottinteso, cioè, senza Sommer poteva finire veramente tanto a poco, anche se il loro attacco tra Ocafor e Abram ci hanno messo del loro a mangiarsi gol clamorosi davanti alla porta, ma è il Milan, cioè nel senso è una squadra di merda. Adesso con tutto il bene e tutte le analisi che possiamo fare, il Milan l'hai vista che rosa è ieri? Cioè, se una squadra arriva otto volte davanti alla porta e se ne mangia sette o sei, stiamo parlando di una squadraccia, cioè, quello è una squadraccia che comunque con un allenatore che ha cambiato modulo, ha cambiato dettame tattico, ti ha messo in difficoltà. Il secondo tempo, secondo me, è inguardabile, io nel secondo tempo non salvo veramente nessuno, a parte Di Marco e Lautaro che sono stati gli unici comunque a provare qualche giocata, a provare a tenere la spina dorsale dell'Inter, ma certi ribaltamenti di fronte, certe praterie che abbiamo lasciato nelle ripartenze, non ho mai visto un Inter negli ultimi due anni prendere ripartenze in questa maniera qua. Ieri mi ha dato un po' le vibes dell'Inter del 2022, la prima Inter di Inzaghi, perché è vero che non siamo nessuno per dire cosa doveva fare il mister, però io mi posso permettere di dire che secondo me in una partita fisica, in una partita di foga come un derby, non puoi assolutamente togliere Ciaranoglu, oltre al giallo, ma l'hai capito, ormai la mania dei cartellini è finita, cioè Inzaghi l'anno scorso aveva perso questa mania dei cartellini, quest'anno l'ha ripresa, ma la riprendi per Mkhitaryan che è fuori dalla partita, e allora va bene, e rimetti Zielinski e rimane un centrocampo fisico che spinge e siamo a posto, Ciaranoglu al derby non va mai tolto, Ciaranoglu in un derby ma non si toglie mai, non solo nel derby, quindi poi secondo tempo hai fatto male poi in una in un undici titolare dove i peggiori sono dove si salvano solo in tre o quattro anche lì è anche è anche un po' dura dare soltanto la colpa al mister perché se su undici titolari se ne salvano tre e mezzo e beh allora non è proprio soltanto colpa dei cambi però cambiare tutto il centrocampo dove già stavi facendo male ma comunque avevi sicurezze frattesi un pesce fuori d'acqua perché l'hai messo con nessuno della triade di centrocampo che spinge palla al piede a parte Zielinski ma che comunque sappiamo che deve ancora entrare negli schemi Aslani che è un giocatore dinamico non c'entra nulla nella partita di ieri il cambio di Dunfrid è un cambio che era forse l'ultimo che dovevi fare un cambio che non ci azzecca niente mettere Darmian non metti Taremi e metti tre punte sull'1-1 come invece il mister aveva sempre fatto l'anno scorso e anche inizio stagione quest'anno quindi ieri male tutti secondo me male la lettura male i cambi non capisco però ecco questo problema di atteggiamento perché lì alla fine tu l'hai persa sia perché il Milan l'ha preparata bene ma anche per l'atteggiamento e comunque ripeto ancora che secondo me è una partita così giocata 65% da tutti con il Milan di Pioli secondo me riusciva a portarti a casa la vittoria quindi la differenza l'ha fatta il 4-4-2 di Fonseca però non si può approcciare un derby in questa maniera non si può approcciare un derby in questa maniera giocatori che hanno umiliato gli sozzoneri per due anni di fila per sei derby di fila è incredibile che non riescano a trovare le motivazioni per vincere il settimo da dentro di loro quindi anche lì il mister ha poca colpa però ieri adesso andare a fare un giudizio sui singoli vabbè Sommer il migliore in campo ha fatto quelle parate su Leao su Morata su Reinders ha salvato quello che poteva salvare centrocampo Varella l'unico da salvare ha giocato quasi da mediano ha fatto una partita sufficiente mette la palla per il gol di Di Marco per Lautaro che poi mette quella palla clamorosa per Dimash c'è la Noglu regia scolastica c'è la Noglu te l'ha dimostrato che può benissimo giocare una partita rischiando con il giallo sulle spalle sicuramente il giallo ha condizionato la partita ma perché prende il giallo perché sbaglia e stacchi la spina all'inizio perché nelle loro ripartenze eravamo veramente messi male in campo e si è stato costretto a fare falli costretto a fare falli infatti i cartellini ne sono la dimostrazione 6-7 a noi e loro solo uno lascia aperto l'arbitraggio che vabbè poi ne parleremo anche del signor Mariani però alla fine i gialli bene o male sono stati quelli giusti vergognoso lì fischiare un rigore a Lautaro che se ci avessero dato quel rigore ragazzi altro che Marotta League spalla piena allora pure quello di Pulic era da annullare il gol perché Pulic si porta avanti la palla con la spalla di che cazzo stiamo parlando vabbè lasciamo perdere tocca la palla con la pace della Serie A non è mai mano quella di Pulic come non è mai mano quella di Lautaro ma se fosse successo al contrario apriti cielo cioè se il gol l'avesse fatto Lautaro portandosi avanti la palla con la spalla oggi avremmo le interrogazioni parlamentari sul gol dell'Inter parliamoci chiaro invece lo fanno loro e vabbè fa niente non è mano assolutamente però ripeto ancora se fosse successo a noi secondo me qualcosa avrebbero rotto il cazzo sempre per la Marotta League famosissima quindi c'è la Noglu costretto a fare una partita scolastica sì ma costretto perché tu hai staccato la spina perché se non staccavi la spina di certo non prendevi quelle ripartenze non eri costretto a fare certi interventi Miki Tarian peggiore in campo potrebbe essere arrivato l'ora di metterlo in panchina non lo so per me Miki è una certezza è un giocatore che accelera comunque tutte le ripartenze accelera tutti i movimenti accelera tutti gli scambi con un solo tocco un giocatore troppo importante ma ieri ha fatto veramente male non era assolutamente in partita con la testa Bastoni in difesa migliore dei tre sicuramente perché è l'unico che ci ha provato anche con un po' di lanci in costruzione nel primo tempo l'unico che ha avuto l'atteggiamento da derby andando faccia a faccia con Morata e con Pulisic cosa che è mancata nei derby la prima cosa è l'atteggiamento gladiatore la prima cosa nei derby è l'atteggiamento da battaglia se tu non ce l'hai poi i risultati vengono di conseguenza anche quello ha pagato tanto secondo me quindi anche dietro comunque un po' di disattenzioni però è normale perché ti stai spiendo troppo in avanti tatticamente un'inter messa male soprattutto sulle marcature vedere il gol di Gabbia vedere Frattesi che marca Gabbia Frattesi che cazzo ha di marcatore Frattesi non ha nulla a che fare con un marcatore vedere Acerbi che marca Loftus Cic fuori dal mucchio selvaggio in mezzo all'area non si può vedere vedere Turam che marca Abram sul gol non si può vedere tatticamente da rivedere le marcature preventive e poi Acerbi secondo me è male Acerbi deve capire che non ha 25 anni e che non può salire in attacco ogni domenica e a fare il bastoni di turno perché bastoni può farlo perché non è un centrale puro e perché è libero di offendere e nei braccetti di Inzaghi tra i due braccetti sono come due tutta fasce quindi posso capirlo Acerbi è l'ultimo che si può permettere di fare una roba del genere quindi poi anche lì Morata gli ha fatto un po' penare le pene dell'inferno quando il Milan accelerava era sempre fuori azione era sempre o avanti o a rinculare gli avversari a rinculare Pulisic a rinculare Leao non era mai deciso male ma malissimo secondo me il peggiore dei tre Pavard ieri Pavard ha incespicato su tutto peggio di tutti i suoi compagni di reparto non ha azzeccato un intervento non ha azzeccato una diagonale sempre sulle gambe tempismo sbagliato non è stata la sicurezza solita bisogna capire che per Pavard gli oneri sono finiti adesso bisogna giocare a calcio perché Benji l'interista tutto quello magari da quando si è messo insieme a sta francese sta modella qua sta strappona ha smesso di giocare a calcio questo possiamo capirlo si è dato anche lui alla figa però i tempi degli oneri sono finiti adesso si lotta Benji l'interista va bene tutto ieri peggiore in campo Pavard peggiore in campo in assoluto sul gol di Pulisic cosa stava guardando il film di Capitano America stava guardando cosa stava facendo sul gol di Pulisic stava guardando il film stava guardando neanche un minimo di carattere nelle ripartenze che ne so vai a steccare l'uomo niente non c'è stato nulla da Pavard quindi male 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 Di Marco migliore in campo il più pericoloso di tutti oltre al gol bellissimi recuperi anche in fase di non possesso l'unico che ci ha messo veramente le palle e veniva dall'affaticamento di Monza e questo ve la deve dire lunga certo che è normale che giocare a un derby per bastoni Di Marco e Barella è una cosa perché interisti fin da bambini lo sentono di più giocare a un derby per Pavard giocare a un derby per Mkhitaryan o per Turam è molto diverso però ieri si è visto un Di Marco stile ultras si è visto un Di Marco che ha giocato con il cuore è migliore in campo da menzionare Turam male da dimenticare se sai che comunque il Milan di Fonseca ti schiaccia devi andare in ripartenza hai due occasioni in ripartenza devi mettere la palla la prima volta per Darmian sulla destra da solo e la seconda volta provi a tirare se tu sulla prima ripartenza perdi mezz'ora per decidere dove dare la palla e scegli di darla Lautaro sulla sinistra con Gabbia che ti interviene tre minuti prima Turam anche con la testa non c'era proprio si salva soltanto l'occasione lì dalla parata di Magnano il primo tempo dopo basta non ha giocato praticamente è invisibile stato e nelle ripartenze le scelte vanno fatte con cognizione di causa se tu hai due ripartenze a partita le devi sfruttare con un Milan come quello di ieri sera le ripartenze sono tutto e Turam si è mangiato due clamorose occasioni per ripartire sbagliando le scelte Lautaro bellissimo quell'assist che fa per Di Marco un assist da campione vero da capitano vero ha provato con una conclusione una girata nel secondo tempo la condizione non è ancora una delle migliori però secondo me come leader come leader motivazionale in campo ieri è stato uno dei migliori Lautaro andrò controcorrente ma a me ieri è piaciuto il Toro assolutamente l'unico che ha provato a tenere la palla in avanti a provare qualche sponda qualche iniziativa personale in quel poco che doveva fare si è preso la squadra sulle spalle nonostante sia ancora in una condizione che è lontana apparente dal Toro che conosciamo la condizione non c'entra nulla con la preparazione sbagliata con le accazzate che si sono sentite in giro c'entra che se tu arrivi comunque con un giocatore che già ti ritorna ultimo dopo la Coppa America lo butti in campo a Genova perché non hai altre alternative perché non puoi mettere Correa a Genova quindi metti Lautaro fa 86 minuti giustamente si va ad affaticare non lo metti con il Lecce cosa fa? parte con la Nazionale dopo l'Atalanta è tutto un continuo è un tunnel che non finisce più per il Capitano quindi io spero vivamente che nella prossima sosta si chiami l'Argentina e si dica guardi Lautaro Martinez per questo weekend non parte per le cazzo di competizioni della Micheo le qualificazioni al Mondiale il signor Lautaro Martinez non parte per la Nazionale rimane a lavorare a casa perché se no non se ne esce più perché un attimo che recupera la forma deve partire e farsi un viaggio della Madonna per due cazzo di partite inutili come Taremi per l'Iran stessa cosa non se ne esce più Darmian non ho capito il cambio sinceramente o beh è entrato ha fatto ha fatto una partita da 0 a 0 cioè senza voto secondo me Darmian non ho capito il cambio veramente non ho capito il cambio frattesi Aslani va frattesi sappiamo che non sa palleggiare forse perdonato perché comunque aveva aveva dei compagni di reparto che non che non si sposano perfettamente con le sue caratteristiche Aslani 0 di 0 ma perché proprio non era la sua partita cambia assolutamente non cambia assolutamente non idonei non idonei assolutamente niente questo è adesso dopo il derby di ieri tutti che partono la carica adesso dobbiamo mollare la Champions in zaghi mediocre non sa gestire le risorse dare la colpa ai singoli Aslani merda di qua di là semplicemente non ci siamo dal punto di vista fisico non ci siamo e hanno meritato perché ci hanno messo più fame e noi assolutamente abbiamo giocato una partita cullandoci e questo non va assolutamente bene ora i punti persi iniziano ad essere tanti non è un problema di classifica perché sapete benissimo che la classifica si guarda se va bene dopo i 10 minuti e si dopo le prime 10 partite adesso vedere la classifica che cosa ti viene in tasca nulla in zaghi ha detto che ha cambiato tutto il centrocampo perché nel secondo tempo erano partiti veramente male e invece anche con i cambi è cambiato veramente poco dobbiamo realizzare questa sconfitta insomma la squadra più forte d'Italia che è la più grande dei re italiani in Europa quando la tenuta fisica ci sarà inizieranno a venire di più tutte le azioni personali tutti gli scambi capisci che poi l'Inter è l'Inter sentire queste tristate veramente non un po' come l'anno scorso mi ricorda un po' la sconfitta con il Sassuolo l'anno scorso che era venuta più o meno in questi periodi qua in zaghi merda in zaghi out non hai imparato un cazzo merda di qua a destra a sinistra e poi dopo avete visto la stagione che è stata fatta io continuo a ripetere quest'anno qualcosa devi sacrificare qualcosa in campionato devi sacrificare quest'anno perché hai un dirigente che ti ha detto che puntualmente devi arrivare tra le prime otto e alzare la sticella in Europa arrivando fino in fondo questo è stato detto da Marotta quindi non c'è da stupirsi se magari poi anche lì non sono d'accordo che ha messo le riserve apposta con il Monza per pensare a Manchester ma la partita con il Monza negli undici titolari era una squadra che doveva far in almeno 2-3 al Monza anche lì cos'è mancato l'atteggiamento e basta andare in porta col pallone anche ieri Cialanoglu arriva al limite dell'area al posto che tirare in porta con lo specchio totalmente spalancato la dà Di Marco sulla sinistra a fondo area che poi prende il calcio d'angolo ma queste sono piccole cose che dicono tanto davanti alla porta bisogna tirare porca troia bisogna tirare le partite vanno vinte anche sporche come a Monza tu non hai vinto perché non sei stato capace di vincere la sporca di provare con qualche tiro da fuori stessa cosa nel primo tempo di ieri avevi quelle occasioni dal limite della prova la botta per quello secondo me serviva più Zielinski da mettere sulla sinistra oppure scambiarlo con Barella a destra e mettere Nicolò a sinistra e tenere Cialanoglu mediano poi certo io non sono nessuno per dare lezioni il mister sa quello che fa ieri per me ha fatto una cazzata sui cambi sui cambi ieri secondo me ha fatto una grande stronzata vabbè insomma questo è il fatto e noi ci vediamo a un prossimo video all'edizione di domani però ecco onestamente senti il parlare di stanchezza per il City mi viene da ridere dai non hai perso perché a parte che poi a Manchester chi ha giocato davanti Taremino Lautaro a centrocampo ha giocato Zielinski non Mkhitaryan in difesa ha giocato Bissek e sulla sinistra ha giocato Carlos Augusto quindi smettiamola con questa roba che lì Mister mette i titolari col City pareggio 0-0 e lascia perdere il Monza a Monza ha giocato Lautaro a Monza ha giocato Mkhitaryan a Monza ha giocato Bastoni e dai su ciao ragazzi sempre Forza Inter ci vediamo al prossimo video ragazzi mi raccomando like no non ha giocato Bastoni a Monza ha giocato Carlos Augusto ma ha giocato comunque Di Marco titolare comunque ragazzi male 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 mi sono ieri mi sono incazzato tanto perché comunque va bene fare va bene lasciare qualche partita in sospesa ma non assolutamente un derby del genere un derby è stato ignobile ieri giocato praticamente al 30% non si può 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 poi questi esultano come se avessero vinto la Champions c'è da dire che noi ci sentiamo così dopo aver perso un derby dopo due anni figuriamoci loro dopo aver preso cazzi in faccia per due anni dopo sei derby persi di fila e beh bisogna compatirli un attimo dai bisogna capire che hanno una vita veramente distrutta per esultare così ma ci credo dopo sei derby persi dove l'hanno preso nel culo e noi ci sentiamo così dopo un derby perso figuriamoci loro dopo sei cioè è una cosa che voglio dire voglio dire è così è così comunque le parole di Lautaro sono confortanti perché comunque dire testa bassa e pedalare io per primo non siamo stati noi adesso dobbiamo tornare a vincere subito lasciano ben sperare ciao ragazzi sempre Forza Inter grazie a tutti